Sono iniziati ieri e dureranno, sino alla giornata di domani, i festeggiamenti in onore di Gesù Bambino di Praga, svolti presso la Chiesa Madre di Licata, retta da padre Angelo Fraccica. Dal 16 al 18 maggio, diversi sono i momenti religiosi programmati. Già iniziati ieri, alle 18.45, quando sono stati forniti cenni storici sulla devozione a Gesù Bambino, e a seguire si è svolta la Santa Messa con omelie e benedizione delle donne in gravidanza, con olio benedetto nel santuario e consegna della novena. Oggi, invece, sempre nel pomeriggio, ci sarà animazione con tutti i bambini in Piazza Duomo, e alle 19, invece, la Santa Messa Solenne con la Triduo, animata dal gruppo Stelline del Mare, dell'Oratorio dell'Unità Pastorale del Mare. Alle 19.30, invece, i Vespri Solenni, animati dalla Corale. Nella giornata di domani, domenica 18 maggio, il clou dei festeggiamenti per Gesù Bambino di Praga. Alle 8 del mattino, l'apertura della festa con sparo di 21 colpi a salve. Alle 17, invece, il giro della banda musicale per le vie della città. Alle 19 è prevista la Santa Messa Solenne e la benedizione dei bambini, votati a Gesù Bambino, animata sempre dal gruppo Stelline del Mare, dell'Oratorio dell'Unità Pastorale del Mare. La processione, invece, del simulacro di Gesù Bambino avrà inizio alle 19.45 per le vie della città, con sosta in Piazza Progresso e momento di animazione con i bambini e i giochi pirotecnici. Saranno presenti alla processione anche i lupetti e le coccinelle del gruppo Scout Licata 1.